Dal sindaco Mauri, che intende scoprire le sue carte solo domani mattina in conferenza stampa, la conferma ufficiale non arriva, ma di indiscrezioni ne giungono da più parti. A fronte dell'inaugurazione del nuovo casello autostradale di Angri, previsto per fine anno, non chiuderà quello storico di Via di Goti. Sarebbe infatti andata a buon fine la trattativa intavolata dal primo cittadino angrese e dal collega di Sant'Antonio Abbati, Antonio Varone, con i vertici di Anas e Società Autostrade Meridionali. La chiusura del casello di Via di Goti slitterà al completamento della nuova strada 268 in località Paludicelle, al confine tra i due comuni. A convincere in tal senso Anas e Società Autostrade sarebbe stata la dettagliata relazione tecnica sulla viabilità tra i due comuni presentata congiuntamente da Mauri e Varone. Un carteggio che dimostrerebbe l'inevitabile ingolfamento del traffico nell'area di Via di Goti nel caso di una chiusura dell'accesso all'autostrada Napoli-Salerno, non essendoci, per gli utenti delle due città, altre vie di collegamento. Entro anno, invece, sarà inaugurato il nuovo casello in Via Adriana, al confine con Sant'Egido del Monte Albino, con una viabilità e una serie di sottoservizi, già da tempo delineate e definiti e ben visibili a chi transita in autostrada. Un progetto varato nel lontano 1999, nell'ambito di una conferenza dei servizi, fortemente sostenuta dalle vecchie amministrazioni di Pagani e Sant'Egidio, che guardavano con favore all'avvicinamento ai propri territori di un accesso autostradale, ma anche dalle amministrazioni di Nocearo Inferiore, il cui territorio compreso tra Piazza Santa Chiara e Via Tzzoli è da sempre interessato da un traffico spropositato, proprio a causa dell'ampia utenza da e per il casello della 3.